Salve a tutti e benvenuti dalla sede del Casale Lunigiana. Sono qui per presentarvi la quinta edizione del Dreamtime Didgeridoo Harmonic Singing Workshop che si terrà il sabato 2 e domenica 3 luglio 2022. Quella che avete visto all'inizio di questo breve trailer sarà la nostra sala di pratica ma potrebbe essere anche un'altra location qua fuori in natura perché siamo appunto nella bellissima terra di Lunigiana e come avrete intuito dal titolo quest'anno il Dreamtime Workshop sarà doppio perché sarà un seminario sia di Didgeridoo, quindi 6 ore, 3 ore al mattino di sabato e 3 ore al mattino di domenica tenuto da me e 6 ore di canto armonico negli stili Tuvani tenuto da Francesco Gibaldi sempre 3 ore al pomeriggio di sabato e 3 ore al pomeriggio di domenica. Abbiamo infatti voluto sviluppare un corso intensivo che vi desse la possibilità di approfondire il rapporto strettissimo tra il canto, soprattutto il canto armonico e il Didgeridoo. Questo è un aspetto evidente nel nostro studio e nella nostra pratica però affrontarlo così in maniera parallela e integrata all'interno di uno stesso workshop intensivo appunto vi permetterà di acquisire delle basi notevolissime per approfondire sia l'uno, il Didgeridoo, che l'altro, il canto armonico e eventualmente integrarli all'interno della stessa pratica, della stessa musica della stessa disciplina che amate seguire. Quindi si lavorerà in stretto rapporto tra strumento musicale, il Didgeridoo strumento corpo, voce, armonici, gli intervalli armonici che sono un tema che porto avanti da tanti anni nello studio del Didgeridoo e che naturalmente Francesco avrà modo di approfondire in maniera strepitosa per quanto riguarda gli stili di canto di tuba che alcuni di voi forse conosceranno e che invece altri potranno scoprire. Saranno questi due giorni, in realtà si arriva alla sera del venerdì poi si sviluppa su tutto il sabato e domenica densissimi, immersi in un posto di totale natura tra boschi, cascate, fiumi, laghi oltre naturalmente alla comunità del Casale Lunigiana che è una realtà che frequentiamo da molti anni e che abbiamo il piacere di frequentare per via anche degli amici che ci sono qui è un posto bellissimo, vedrete chi ci è già stato è rimasto incantato è l'occasione di fare un seminario vacanza perché nelle pause naturalmente si può andare per laghi si può andare per fiumi, si può fare il bagno su tutte le cascate si può passeggiare per boschi si può incontrare un capriolo e poi c'è tutta la comunità qui del Casale con gatti, capre c'è l'orto quindi naturalmente avrete intuito che si può mangiare a chilometro anzi a metro zero del cibo buonissimo, freschissimo che viene preparato giorno per giorno anche per vegetariani e per vegani inoltre vorrei ricordarvi che durante questa edizione al sabato ci sarà una sorpresa sia io che Francesco presenteremo un piccolo assaggio dei nostri rispettivi spettacoli Francesco porterà tutta una serie di strumenti oltre la sua voce che suona da tantissimo tempo e io invece naturalmente proporrò l'immancabile di Geridou e qualcos'altro qualche altra sorpresa quindi vi aspettiamo per il Dreamtime di Geridou e Harmonic Singing Workshop del 2 e 3 luglio 2022 ricordandovi che se farete le iscrizioni entro il 31 dicembre 2021 otterrete uno sconto guardate il link a questo trailer e ci vediamo qui a casa grazie 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 a tutti